Ladri acrobati, protagonisti di un furto ai danni di un negozio a ponte tetto. I malviventi, dopo essere entrati nella chiesa sconsacrata, che confina con il negozio di fiori e orchidea blu, lungo Viale San Concordio, si sono arrampicati lungo i ponteggi interni dell'edificio, attualmente in ristrutturazione. Saliti sul tetto, hanno prima rotto le vetrate del lucernaio del negozio, per poi calarsi all'interno dello stabile per compiere il furto, rubando dal registratore di cassa un bottino di circa 100 euro. La proprietaria si accorta dell'accaduto soltanto stamani, durante l'orario d'apertura, trovando il negozio a soccuadro e i cassetti aperti, mentre all'esterno non c'era alcun segno di effrazione. I carabinieri sono arrivati subito sul luogo per i dovuti accertamenti e per iniziare le indagini.